sta configurando facebook live reindirizzamento in corso alla pagina dovremmo esserci si allora se desiderate cominciare siamo ancora un secondo eccoci registrazione in corso buon lavoro grazie stiamo registrando qui iniziate bene allora comincio io rompo il ghiaccio buonasera a tutti sono simona maggiorelli di left e sono molto grata a transform di offrirci questa possibilità di presentare il numero di left che è in edicola fino ad oggi politiche senza paura ecco qua poi si resterà acquistabile sul sito di left la copia digitale in realtà questo è uno dei tanti numeri che noi di left facciamo dedicati alle donne e perché è un tema che percorre no tutta la nostra produzione settimanale è un tema diciamo sempre no otto marzo tutto l'anno perché insomma non 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 può essere una questione episodica in questo caso il là ce l'ha data anche una notizia molto drammatica cioè il fatto che la la turchia abbia annunciato di voler uscire dalla convenzione di istanbul che per quanto sappiamo benissimo che i trattati servono limitatamente poi a superare il problema della violenza sulle donne però comunque insomma ha rappresentato un momento molto importante e tanto più drammatico perché noi come unione europea come sappiamo da tempo ci siamo alleati con Erdogan e foraggiamo le sue politiche di trattenimento violento dei migranti e quindi insomma no il contesto già cominciamo a tematizzare la questione che non riguarda solo le donne riguarda le donne riguarda i migranti e il nostro sguardo è sempre quando trattiamo le questioni delle donne allargato allargato una piattaforma larga di di battaglie per i diritti di tutte e di tutti e su questo proprio c'è stato io vorrei ringraziare le nostre ospiti stasera perché hanno dato contributi importanti in particolare eh Carla eh Chiara Capretti Paola Nunez eh Eleonora Forenza e stasera poi abbiamo l'onore di avere con noi Patrizio Tentinelli che ci aiuterà a commentare questa eh il le loro quello che loro hanno scritto ecco noi brevissimamente insomma veniamo oltretutto da un anno in cui le donne lo sappiamo insomma sono quelle che sono state più di tutte né bene male in prima linea eh perché eh donne che hanno lavorato come cassiere che hanno lavorato a casa eh facendo doppio e triplo lavoro chi ha potuto mantenere il proprio lavoro eh con gli smart work occupandosi della famiglia della cura degli anziani insomma eh dovendosi dimostrare multitasking in ogni modo e poi ci sono quelle che hanno perso il lavoro e sono tantissime perché tu lo 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 ripetiamo in continuazione anche perché non ce lo possiamo dimenticare i dati Istat di dicembre eh hanno fotografato questa situazione drammatica no? E oltre il novanta per cento dei posti di lavoro andati perduti erano posti occupati da donne e questo significa che le donne sono anche quelle che hanno i contratti più precari eh e c'è poco da fare con che hanno lavorato anche nei settori più colpiti dalla pandemia dal turismo ai servizi e e così via sappiamo anche che durante questo anno aumentata la violenza sulle donne quindi eh c'è questo problema che in Italia è un problema un'emergenza strutturale eh purtroppo e quindi il lavoro che c'è da fare non non riguarda soltanto le norme che sono necessarie ma non bastano serve come ci dire ripetiamo sempre un un salto di qualità culturale un lavoro culturale diffuso nelle scuole e in ogni luogo della società persino lo sappiamo benissimo nelle aule di tribunale dove continuano a essere a imperversare stereotipi violenti quando anche le quando le donne in realtà sono vittime eh di violenza ma l'altra cosa che volevamo dire è che siamo anche un po' stanchi di questa narrazione solo come dire negativo perché le donne eh sono una grande risorsa e ci sembra come lepto veramente stupido mio per scusate la scorciatoia non investire su sulle donne sul lavoro delle donne perché questo significherebbe anche dare una svolta a tutta la situazione economica generale anche solo banalmente egoisticamente lo dico per chi non la pensa come noi per il fatto che se le donne lavorano la domanda dei servizi ovviamente aumenta in ogni caso e quindi sono più posti di lavoro eh per tutti ma detto così insomma con una scorciatoia eh si prospetta eh si parla tanto di recovery plan che però no ci sembra che ci siano come dire ci sia sufficiente attenzione alle investimenti no per le donne per creare posti di lavoro per le donne e poi c'è tutta la questione della transizione ecologica di cui appunto Paola ha scritto su su questo numero di left e in cui le donne sono assolutamente protagoniste quindi diciamo che abbiamo cercato in questa copertina di unire l'aspetto politico l'aspetto economico ma anche l'aspetto culturale perché questa è un po' una caratteristica di left e mi rendo conto che non tutti ma che insomma bisogna saperla dire bene perché può sembrare un tema scivoloso ma io sono noi siamo convinti che le donne eh portino con sé una possibilità di intelligenza nuova cioè che è un' intelligenza anche emotiva un' intelligenza di legata al sentire al rapporto con gli altri e che ovviamente non vuol dire che le donne siano quelle che devono essere delegate al lavoro di cura ben inteso il lavoro di cura deve essere professionalmente riconosciuto e retribuito però noi diciamo detto così poi se volete mi piacerebbe sapere la vostra opinione insomma discuterne insieme da tempo proponiamo questa idea che se la società si femminilizzasse se vogliamo dire no? Se questa sensibilità diventasse questa attenzione all'altro e dimensione umana del vivere sociale di ripensare le città e gli spazi fosse una conquista di tutti degli uomini e delle donne forse potremmo costruire una società migliore ma insomma eh io vorrei sentire le nostre ospiti stasera e passo subito proprio perché non vogliamo stare solo tra donne la parola al nostro eh conduttore di stasera Stefano Calieni prezioso collaboratore di left grazie Stefano. Grazie grazie a voi a tutte eh devo dire mi fa piacere anche essere qui nella doppia con la doppia giacchetta quella di collaboratore di left e di transform è un continuo cambiarsi cambiarsi e PRC e PRC chiaramente ma quello questo si dà per scontato eh a me mh piace molto eh il parterre di questa sera eh per un fatto eh le quattro compagne con cui ho a che fare con cui mi ritrovo a discutere sono compagne che in periodi diversi con storie diverse con modalità diverse mi hanno insegnato e mi insegnano che si può fare politica in maniera diversa ci mettono oltre che il il proprio approccio e la propria sensibilità ci mettono una cultura del fare del costruire che spesso eh a noi maschietti manca cioè non diventano le donne di potere eh quelle che si contendono alla carica di capogruppo ogni riferimento non è puramente casuale ma eh le persone che tendono tentano e tendono a modificare quello che vedono eh e io mh la butto la palla letteralmente provando a fare partendo dagli specifici cioè dalle quattro persone che ho avuto il privilegio di incontrare nella negli anni partendo da quella che conosco da più tempo per poi eh avvicinarmi Patrizia preparati eh da una da Patrizia Sentinelli oggi presidente dell'altra mente io me la ricordo Patrizia che è stata la prima eh politica italiana ad andare in Somalia dopo la guerra civile eh non so se è la prima europea sicuramente la prima italiana adesso Patrizia fa un lavoro straordinario eh in una associazione che si chiama altramente dove ha avuto il privilegio ogni tanto di essere ospirato e di andare e dove la convivenza e la costruzione di spazi comuni in cui si impara in maniera reciproca diventa qualcosa di concreto quello a mio avviso eh è fare politica io partirei dalla dalla sua esperienza se Patrizia è d'accordo grazie Stefano per le belle parole infatti sai me ne ero dimenticata ma io mi definisco da un po' di anni una fattrice riflessiva quando mi chiedono ma che fai eh sono una che fa però riflette poi insieme agli altri alle altre su quello che fai mi sembra che sia davvero la risposta più giusta quando mi chiedono dopo la politica no faccio politica non dopo la politica faccio un'altra politica in questo periodo vi ringrazio molto per avervi dato questa possibilità di partecipare naturalmente prima transform ma anche left per aver ospitato in questo numero di cui prima parlava Simona veramente dei ricchissimi contributi e alcune di queste donne che hanno scritte sono qui e le ringrazio di cuore le e poi prenderò il filo di alcuni temi già mi piace il titolo politica senza paura ma mi piace molto e mi sento affine proprio a quello che faccio tutti i giorni in altra mente questa frase che riprendo qui eh della nell'editoriale di Simona le donne non sono solo una fascia debole da sostenere ma anche soprattutto soggetti attivi del cambiamento non parlerò Stefano perché non è questo di cui voglio parlare di ciò che ho incontrato e delle donne che ho incontrato nella mia esperienza politica grande straordinarie penso alle donne africane tu facevi riferimento alla Somalia e dunque a molte numerose donne somale però in genere è proprio così vengono oscurati i lati positivi e allora quelle parole mi hanno fatto anche ripensare a quella a quelle cose quelle riflessioni a quei contributi di Chiara Eleonora e anche di Paola perché mi sono molto ritrovata nel filo che loro hanno lanciato che comunque io ho voluto cogliere il filo tra i diversi pensieri espressi da loro che hanno scritto proprio a me pare lo traduco naturalmente con le mie parole e lo porto dalla mia parte che non si può e non io non voglio e nemmeno loro vogliono tornare a quella normalità che c'era prima della pandemia una normalità quella che c'era prima che non ha impedito proprio alla pandemia di esistere e questo è molto importante perché ha saputo non hanno saputo non si è saputo né prevedere né curare ma quella normalità ci ha svelato che non può essere riproposta perché è stata quella normalità capitalistica aggiungo che ha smantellato le istituzioni che avrebbero dovuto essere il presidio per la prevenzione e per la cura la facciamo corta ci intendiamo parliamo della sanità e dello smantellamento della sanità unitaria parliamo della scuola parliamo del lavoro ne parla benissimo Chiara nel suo intervento il lavoro sempre più povero sempre più diseguale sempre più servile mi sembra che su questo dobbiamo fare una grande attenzione una grande discussione prestare attenzione quella normalità che qualcuno ancora ora invoca non ci serve Paola l'ha detta bellissimo nel suo intervento io mi ci ritrovo nelle azioni e nelle pratiche che agisco bisogna operare verso una transizione davvero vera ecologica ma che vuol dire vera per non essere solo un aggettivo messo così perché per fare una transizione davvero ecologica bisogna non fare sconti al mercato al mercato nessuna concessione alla green economy o via dicendo invece serve una transizione ecologica che parte ad una nuova relazione tra tutti gli esseri viventi umani e non umani questo è quello che davvero va ripensato in grande ne saremo capaci e io penso che dobbiamo esserne capaci perché la non la normalità del liberismo io penso che la dobbiamo mettere in cassetto no non ci serve no grazie come ricordava Stefano agito per molti anni pratiche nelle istituzioni e lo sapete a me viene sempre da riflettere su questo perché mi dicevo chiara è giovane sta ora nei movimenti credo che su questo vi possa capire quando ho svolto sia a livello di governo e la mia delega all'Africa samsariana la cooperazione ma anche in consiglio comunale a Roma il mio impegno politico mi sembrava che eravamo in un periodo in cui le istituzioni democratiche di questo paese erano in qualche misura permeabili anche al cambiamento portato e richiesto dalle lotte sociali vi è stata ad un certo punto una cesura enorme c'è stata una crisi devastante democratica istituzionale insieme e dunque una crisi di rappresentanza e da lì che è iniziata anche a età se volete grande per me una riconversione personale verso la rigenerazione sociale ho detto no quella politica non è per me in questo momento o io non sono per quella politica ne voglio fare un'altra e da qui il discorso di prima della fattrice riflessiva sono dieci anni ormai che mi occupo appunto di altramente ne sono la presidente ma insomma non è questo importante è importante come insieme ad altri ad altri proviamo ad animare ad abitare uno spazio pubblico sottraendolo al mercato sì la pratica della gratuità non è una roba che ci fa sentire a quanto siamo bravi e buoni è una pratica di azione politica per non tornare a quella normalità a cui facevo riferimento prima ma per fare questo e tutti i vostri articoli lo mettono in evidenza leonore in modo molto acuto serve una grande radicalità guai a mio parere lo dico con quella umiltà che mi che mi deriva dalle mie esperienze della necessità di cui ne abbiamo sempre bisogno quella radicalità deve fare centro nella cura e quindi riportare a valore la riproduzione sociale in questi giorni forse mi sarà capitato anche a voi a me viene da scherzare lo dico tanto per dire scherzare forse sarebbe da piangere nel Lazio ci sta questa campagna vaccinale che più o meno diciamo funziona la cosa più buffa leggendo io facebook telefonate di amici a signora mia si dice così a Roma ma che gentilezza ho trovato un luogo accogliente sono veloci voglio dire ci mancherebbe pure che ci dessero degli schiaffi in faccia e qualche calcio da qualche altra parte cioè perché lo diciamo dovrebbe essere quella la normalità a cui fare i ferimenti ci sembra un'eccezionalità e allora mi viene da pensare per questo dico rido ma nemmeno tanto che siamo ormai abituati un po tutti e tutte ad essere dei sudditi per questo io dico che serve la radicalità nel pensare anche una trasformazione e leonora lo dice in modo ficcante siccome io non ho scritto ho letto con attenzione quello che avete detto e lo vorrei riprendere leonora scrive queste tre parole tre frasi farci forza politica serve farci forza politica poi dice ancora per dar corpo riflettiamo su queste parole e rifondare un'alternativa con pratiche creatità creatività femminista io credo che sia davvero da riflettere e leonora su questo che tu mi dici a me come dici agli altri io mi ci ritrovo molto molto le mie pratiche che agisco insieme quotidianamente richiedono non solo la radicalità ma anche chiamiamola autonomia dai poteri autonomia perché ciò che spesso e volentieri ci trae in inganno e ci fa quel punto chiudere in una trappola è l'omologazione la cooptazione noi associazioni chiamiamoci genericamente che fanno politica alcuni ci chiamano del terzo settore molto importante soprattutto in questo periodo di di pandemia veniamo usati veniamo spesso usati ma poi non valorizzati e c'è anche qualcuno però attenzione che si fa usare perché spesso queste associazioni sono diventate ancelle al servizio dei decisori attenzione quando io parlo di autonomia di autogoverno di autodeterminazione di radicalità penso proprio a questa necessità di sentirsi soggetti attivi come richiamava appunto simona per quello che dicevo prima e agire pratiche in difformità insomma possiamo dircelo chiara tu lo dici bene quando metti in evidenza la drammatica crisi sociale in cui viviamo vogliamo provare a essere anche delle irregolari irregolari nel senso che non possiamo accettare quello che c'è stato detto fatto credere come vero dobbiamo sfuggire soprattutto in italia questa cappa è pesantissima dobbiamo farci forza politica cominciando a conoscere il contesto in cui operiamo non è una banalità di restiamo sul territorio chiara dice riguardiamo verso il basso e paola riparla appunto di transizione ecologica necessaria per rivoltare io dico cambio di postura per leggere il contesto in cui stiamo ma lo dobbiamo rileggere il contesto per conoscere il rapporto dei poteri e anche dei rapporti sociali c'è stata una scomposizione una frammentazione molto grande dei soggetti sociali in questi anni e allora la domanda è come agire di nuovo per rigenerare Stefano lo sa io chiamo la mia azione della mia associazione naturalmente non la mia personale come una rigenerazione sociale rigenerazione per trasformare l'indifferenza di molti in interessi attivi per non essere portatori di odio di qualunquismo di discriminazione di modelli patriarcali ma per fare un'unità di intenti di risonanza in qualche modo e provare a ricostruire in essi che si sono non più saldati tra di loro vi porto una piccola esperienza l'altro giorno abbiamo fatto una diretta facebook con un'associazione che si chiama differenza lesbica perché volevano conoscere che cosa facevamo insieme alle donne e di altre nazionalità che venivano nella nostra scuola a studiare l'italiano queste signore che abbiamo invitato giovani ragazze bengalesi egiziani sono venute al nostro incontro tutte vestite a festa per riguardo all'evento e la cosa più bella non è solo che hanno parlato della del desiderio di imparare la grammatica italiana e saper comunicare ma che avevano bisogno di venire perché avevano trovato ad altra mente uno spazio di libertà io mi sono commossa e credo che anche voi l'avreste sentita così quella quella definizione vengo ad altra mente per trovare uno spazio di libertà io aggiungo anche di desiderio servono questi elementi di passione anche di volontà individuale e di comunità per provare a cambiare per dare appunto un'idea di un cambiamento possibile diventiamo una forza una risonanza non più dobbiamo essere una pluralità di monadi per questo io penso e mi avvio a concludere questo primo giro che bisogna agire o comunque io quello che sto provando a fare in questi anni nel micro leggere ascoltare imparare camminare insieme per poi ritornare naturalmente al macro cioè alla politica più generale qualcuno chiama questo anche fare inchiesta se poi si è capace anche di ritornare però nella micro per tornare cioè alle lotte al conflitto praticare lotte intersezionali come ci indica il nuovo femminismo come scrive left in questo numero io credo che la prossimità venga vista in questa chiave proprio come valore per infrangere proprio la globalizzazione capitalistica dei suoi e suoi poteri restituire insomma e ricostruire processi di soggettivazione sottraendo proprio noi singoli le persone ad essere semplici spettatori per contrastare quell'individualismo che sentiamo pesantissimo che ci rende compatibile al potere servile occorre proprio rompere la sequela del dominio e ricucire quella fermentazione di cui prima parlavo insomma basta nulla può tornare ad essere come prima dobbiamo già combattere le disuguaglianze ritorno a chiara su questo alla povertà che oggi sono di più cresciute di più per le donne per i giovani per tante situazioni che conosciamo dobbiamo rompere quindi quello che c'è e ricostruire sapete quando parlo di rigenerazione sociale e di risoggettivazione penso ad una pratica di ricostruzione di restauro forse simona lo sa perché se ne intende di arte più di altri c'è una pratica è una tecnica giapponese che si chiama il kinsuji mettere insieme ricuscire con loro però non nascondere la ferita allora io quando penso ad altra mente pensa queste pratiche di rigenerazione pensa alla necessità di ricuscire le ferite mai nascondendole però tenendo sempre presente che stiamo di fronte ad un mondo malandato dove le ferite anche le nostre le nostre personali devono essere viste perché possono essere proprio perché viste riconosciute riparate con la cura e con l'amore io penso che qui c'è anche la possibilità di ricostruire l'alternativa finisco qui vi lascio alle altre discussioni che sentirò con grande con grande attenzione e di nuovo grazie ora io confesso che avevo già deciso che avrebbe parlato per prima patrizia quando mi ha raccontato la storia dell'incontro con le donne ad altra mente me ne accennava perché era venuto il giorno prima se ricordo bene e mi sono immediatamente medesimato nel fatto che questo poteva essere il punto d'apertura di come si potesse discutere e patrizia ha toccato tanti punti a me una cosa ha colpito molto tra le tante quindi non voglio dico soltanto questo perché non voglio rubare tempo a chi vorrei invece sentire il micro il macro e c'è una compagna che adesso vorrei dare la parola che è passata dal micro al macro adesso è tornata al micro restando macro ed ha una compagna con cui litigo in continuazione anche perché è della Juve ma che secondo me a parte quello che è riuscito a fare come parlamentare europea di cui non cesseremo mai di ringraziarla però una che continua a insegnare anche partendo dal dalle piccole cose che significa per esempio combattere il patriarcato e a me hanno colpito delle cose che mi raccontava che vorrei che tirasse fuori se sei ad accorto adesso che insegna insegna in una scuola di periferia romana scopri il mondo del proletariato e del sottoproletariato meticcio che vive a Roma di cui sei anche innamorata me la me la ha detto con molta con gli occhi che le brillavano quando ci potevamo incontrare e mi piacerebbe che partisse da questo per per dire tante tante cose che può dire che ha già scritto molto bene nel suo articolo maele innanzitutto grazie e grazie a simona per aver immaginato questo numero grazie a stefano e a transforma per aver organizzato questo momento di confronto io devo dire mi ritrovo tantissimo nelle cose che ha detto patrizia e ho sentito tantissimo la sua emozione quando ha parlato degli spazi di libertà di desiderio di riconoscimento che si possono creare in una scuola e della scuola come luogo fonda fondamentalmente politico io continuo a fare politica continuo a fare politica e vado a scuola di politica insegnando e perché appunto è un uno scambio continuo è una relazione che ti consente di insegnare ti consente di imparare di conoscere e conoscere quando è conoscenza reale e anche appunto un processo di trasformazione di te stessa e io mi ritrovo tantissimo nelle parole che diceva adesso patrizia sulla questione del conformismo e qui secondo me la scuola è un punto nodale un punto nodale perché ci ricorda quanto dobbiamo riprenderci le parole e io con con le ragazze e i ragazzi che incontro che sono appunto pischelli che pischelle che mi tengono lezioni quotidiane di romano io mi tanto cerco di inserire un po di greco un po di latino ma devo dire che il corso di romano che sto facendo è una restituzione di di umanità e potentissima è potentissima e e quindi sono proprio felice di quello che sto facendo e a scuola ecco quello che a me preme quello che a me preme tantissimo è riscoprire il senso della parola autonomia la scuola è stata uccisa offerita gravemente da un'idea di autonomia come autonomia competitiva e aziendalizzante ed è una scuola quella dell'autonomia capitalistica quella dell'autonomia competitiva che rischia di educare al conformismo quello che io provo a fare e non so se ci riesco ma è quello che cerco di fare con grande passione e rompere quella cappa del conformismo competitivo e lo si può fare in tanti modi a scuola lo si può fare con le parole di Rita Levi Montalcini che spiega come il conformismo ha permesso che ci fosse l'olocausto e lo si può fare con l'attimo fuggente e rompendo appunto la cappa del conformismo che molto spesso ritroviamo anche nei processi educativi e penso che queste siano le questioni della scuola che devono tornare a occupare lo spazio pubblico della discussione lo dico perché left fa da questo punto di vista un'operazione culturale importantissima noi parliamo giustamente di lavoro parliamo giustamente di salute sono due questioni centrali in questo momento e parliamo tanto anche di scuola io penso che sia centrale riaprire una discussione culturale sulla scuola e non solo relativa a gli elementi e gli aspetti economici culturale perché appunto la scuola che abbiamo ereditato che è quella dei tagli di Gelmini no i tagli costituenti contro cui scendevamo in piazza ma è anche la buona scuola di Renzi quella che ti educa a essere competitivo nel lavoro già nella scuola perché questo è quello che nasconde una sigla astrusa che non so se voi conoscete ma è quella del PCTO no e che è l'alternanza scuola lavoro ecco eh io credo che noi dobbiamo tornare a diciamo occupare e occuparci di scuola parlando anche di come la scuola possa essere un luogo che oggi si sottrae e si libera dalla cappa del conformismo competitivo eh ancora sulla scuola e lo sapete tutti lo sapete tutte la scuola è stata ed è tuttora eh all'incrocio no fra eh l'uso capitalistico della pandemia perché noi siamo dentro non solo una pandemia ma dentro un uso capitalistico della pandemia e la necessità di eh proteggere tutelare difendere e possibilmente andare in attacco i luoghi del welfare i luoghi appunto diciamo di una riproduzione sociale ma nel senso riprodurre la società in forme diverse da quelle che abbiamo conosciuto eh quindi questo è un po' il crocivio della scuola io sono tra quelle che considera la riduzione di questo orizzonte di discussione alla dicotomia presenza eh distanza un errore perché penso che noi dobbiamo parlare di molte altre cose relativamente alla scuola e sicuramente tra le cose di cui dobbiamo parlare c'è la necessità ad esempio di rimettere nella scuola i presidi sanitari e quindi il medico scolastico che è stato cancellato di eh stabilizzare i precari e le precarie di ridurre il numero degli alunni e delle alunne per classe di fare veramente della scuola diciamo un luogo ehm di eh di liberazione un luogo in cui si impara l'autonomia in cui si impara l'autonomia e e diceva prima Stefano eh per me eh l'incontro con la scuola è avvenuto dopo un un quinquennio diciamo di nomadismo accelerato e per me davvero il passaggio diciamo dalla stanzialità pandemica eh diciamo alla stanzialità pandemica dopo il nomadismo parlamentare è stato veramente un una decelerazione da da cento a zero dal punto di vista della della mobilità e però eh quello che ho imparato in quei cinque anni io cerco di riportarlo in aula cerco di riportarlo in aula proprio perché eh vorrei eh trasmettere ai ragazzi e alle ragazze e questa è una questione che viene toccata molto bene ad esempio eh nell'articolo di di Rosa nel contributo che Rosa da da left eh l'importanza del poter restare ma anche il diritto a poter andare non non come necessità e credo che questo sia questa sia una una curiosità importante da comunicare ai ragazzi e alle ragazze e in apertura Simona parlava di una questione che per me è stata centrale durante gli anni come parlamentare che è quella della convenzione di Istanbul e che secondo me ci riporta non solo alla Turchia ma ci riporta tanto anche all'Italia perché eh giustamente che Simona lo scrive anche nel suo editoriale di apertura la convenzione di Istanbul noi l'abbiamo difesa l'abbiamo difesa con le unghie e con i denti perché è la definizione più ampia della violenza contro le donne la violenza fisica la violenza domestica la violenza culturale quella che passa attraverso le parole la violenza economica eh nell'Unione Europea che dovrebbe essere diciamo nella narrazione dominante il paese dei diritti e della eh delle pari opportunità sappiamo che invece persiste una differenza reddituale una differenza salariale eh importantissima e lo ricordava eh lo si ricordava in apertura lo ricordava anche l'articolo di Chiara sappiamo che eh in Italia quelle che hanno perso il lavoro eh no i dati Istat eh sulla fine dell'anno scorso sono purtroppo al novantanove per cento donne e e questo ci riporta al fatto che anche in quei paesi noi abbiamo sostenuto eh la necessità di una ratifica comunitaria della convenzione di Istanbul ma sappiamo bene che non tutti gli stati membri dell'Unione Europea avevano ratificato quella convenzione e anche gli stati membri che hanno ratificato quella convenzione sono ben lontani dall'attuarla pienamente e compiutamente l'Italia è tra questi però aggiungiamo un tassello aggiungiamo un tassello io sono stata in piazza indipendenza è stata una delle poche uscite che sono riuscita a fare pochi giorni fa per un presidio promosso tra eh diciamo le altre realtà da una di meno proprio sulla questione della Turchia e del ritiro dalla convenzione di Istanbul beh eh per me eh è stato bellissimo ascoltare le donne kurde che prendevano parola in solidarietà con le sorelle turche che si stavano ribellando al sultano Erdogan perché questo può la politica delle donne come soggetto del cambiamento ha totalmente ragione Simona per me sentire le parole delle donne kurde che su questo hanno eh diciamo con cui abbiamo un debito ehm inestinguibile perché perché ci hanno insegnato cos'è la corappresentanza perché ci hanno insegnato eh appunto eh con questa parola Jin che torna no come nuovo strumento di eh comprensione della realtà come diciamo scienza onicomprensiva realmente che cos'è l'intersezionalità ed esattamente quella forza eh intersezionale e internazionalista che secondo me può la politica delle donne può la politica delle donne però io su questo e ne approfitto perché ho eh diciamo donne attive intelligenti eh e potenti no come interlocutrici in questo eh in questo eh in questo confronto eh e donne che non sono interessate a quelle che Cinzia Ruzza e Nancy Fraser chiamano le pari opportunità di dominio quelle che ehm scambiamo per femminismo quando ci sentiamo dire che l'Europa è governata da tre donne che in realtà fanno politiche che sono perfettamente in continuità con le precedenti o che appunto eh servono le donne capogruppo noi siamo interessati a un femminismo eh Carla Lonzi diceva come irruzione di una nuova soggettività nella storia come qualcosa che rompe no? E che rompe che cosa? Rompe l'uso capitalistico della pandemia, rompe l'idea che si possa tornare a come si era prima come come soluzione e prova a prospettare una cura, una cura che è quello del prendersi cura, del mettere al centro ehm le relazioni, del mettere al centro eh le persone e non appunto il profitto. Beh io penso che anche noi abbiamo un percorso di liberazione da compiere insieme e questo percorso di liberazione è appunto il farci forza, il farci forza, avere cura e assumerci una responsabilità perché io sono stanca di vedere tanta intelligenza, tanta passione politica, tanta creatività politica femminista, non solo femminile, femminista, vedere ingabbiata in recinti che non ci consentono di immaginare qualcosa di diverso che esattamente invece è quello che secondo me serve e quindi penso che uno sforzo lo dobbiamo fare anche noi perché finché eh rimaniamo ingabbiate in recinti che non ci consentono di immaginare qualcosa di diverso, qualcosa che ancora non c'è, noi questo qualcosa di diverso che invece potremmo e dovremmo costruire perché ce n'è un grande bisogno, non lo costruiremo. Grazie Ele, grande come al solito. Chiara, ci sei? Io parto, anche lì parto da piccoli episodi. Svariati anni fa portarono a Napoli in un posto che era stato appena occupato e che io vedevo distrutto e che sapeva di dolore fondamentalmente che era il l'ex OPG eh l'ex ospedale psichiatrico. Ci tornai anni dopo, ormai sono passati tre anni e ci trovai un luogo di libertà costruito da uomini e donne che ci avevano realizzato un posto di libertà in cui soprattutto ehm l'elemento di aiuto, mutualismo e cura per chi stava peggio veniva al centro. Beh eh poi ne sono successe tante che hanno anche impedito il proseguio di alcuni percorsi però ammetto che a me l'emozione che mi ha dato il vedere la vita scorrere dentro quel posto eh mi ha fatto bene, l'ho considerata un un grande esempio di di come potrebbe essere eh potrebbe essere il nostro paese, potrebbero essere tanti spazi del nostro paese. Io Chiara se sei d'accordo partirei da questo. Perfetto. Eh no a parte che la prima cosa diciamo quando vuoi venire lo sai del benvenuto tanto anche in tempi di pandemia non ci si ferma mai. Ehm io ne approfitto perché i spunti sono tantissimi e inquadrarli a partire anche dalla dall'esperienza diretta che si porta avanti su Naboli ma si porta avanti ormai fortunatamente in tanti territori, in tante forme diverse, in tante organizzazioni diverse. Ehm mi risulta forse più più comodo, mettiamola così. E io parto da questo perché parlare di uno spazio dove si fa mutualismo significa parlare anche per noi di quello che significa e di immaginare la politica oggi. Perché il primo punto da cui partiamo è che purtroppo non ci sono grandi scorciatoie dentro a prendere. Lo diceva lo si diceva bene anche prima. C'è stata una frattura enorme che non è di pochi anni ma ormai parliamo almeno di di due decenni che ha impedito da un lato diciamo il crescere delle stanze sociali e la possibilità di portarle avanti anche dentro i luoghi istituzionali e dall'altro lato di mantenere una credibilità di quei soggetti e di soggetti politici che hanno l'ambizione di trasformare l'esistente. Questa frattura esiste probabilmente molte cose le abbiamo capite alcune ancora diciamo dobbiamo eh sicuramente portarle avanti. La prima cosa che io diciamo penso che eh sia importante però è proprio questa cioè che il campo che è stato distrutto non è semplicemente un campo politico della rappresentanza è proprio un campo sociale di identificazione e di eh di di tornare in qualche modo a riconoscersi l'un l'altro in quella che eh facciamo fare facciamo bene a ribarirlo perché è un termine che non si usa più ma va usato sempre e quella che è l'unità di classe cioè noi partiamo da quest'idea qui la le le forme del lavoro anche questo lo si diceva già prima sono estremamente frammentate sono estremamente variegate cambiano molto sicuramente da territorio a territorio e moltissimo anche dalla città alla periferia molti molti luoghi di produzione si sono spostati in realtà fuori dalle metropoli e dentro le città si vivono forme di lavoro molto più complesse spesso molto più individualizzanti perché una cosa è fare il rider un altro è stare in ufficio figuriamoci se sei smart working sappiamo benissimo poi sul mondo della ristorazione che che incide tantissimo sulle città culturali è un mondo quindi di lavoratori che non hanno spesso nel posto di lavoro un luogo di incontro sociale non solo per eh cominciare e vertenze e lottare ma anche semplicemente innanzitutto per riconoscere i propri interessi e bisogni comuni ecco noi partivamo e e costruiamo diciamo sui territori all'ex OPG innanzitutto questo principio qui l'idea che la la ricomposizione di classe possa partire su base territoriale che quello che non si incontra più nel luogo di lavoro si possa incontrare nel quartiere in cui si abita nei luoghi in cui si si frequenta e che sia un primo passo di di riconoscimento e l'ex OPG chi ci viene penso lo lo noti cioè in cui si incontra il il richiedente asilo che viene allo sportello si incontra eh la casalinga che viene per le attività sociali sportive si incontra i lavoratori a nero della ristorazione si incontra l'operaio della Whirlpool che viene ehm per magari organizzarsi per la manifestazione ci incontrano varie figure sociali questo secondo noi è il è il primo step che abbiamo perso perché quei luoghi sociali spesso non esistono più se non nella forma che chiaramente del consumo quello sì ma nella forma diciamo della dello strumento del del avere un posto che è uno strumento per acquisire diritti per costruire iniziative culturali per eh anche solo immaginare risoluzioni ai propri problemi costruendo vertenze e campagne questa dimensione qui si è persa eh questo per noi è fondamentale perché secondo noi ha esistono ovviamente tanti movimenti d'opinione che sono nati e cresciuti in questi anni e giustamente l'onora citava eh non una di meno l'esperienza delle donne kurde che tanto ha trasmesso anche nei nostri territori esiste ovviamente tutto il percorso di Friday for Future ma sappiamo che i movimenti hanno delle dei grandi momenti di di partecipazione e spesso poi anche dei grandi reflussi cosa resta poi dopo quando ci sono i reflussi deve restare un processo organizzativo ecco questa a nostro avviso è la chiave su cui eh si deve cominciare a lavorare su cui si costruisce molto più facilmente tra l'altro a mio avviso un un'unità di fondo perché l'unità di fondo parte da un principio prettamente pratico su come organizzare la battaglia contro eh chi ti sfrutta perché sei dipendente a nero piuttosto che per la riqualificazione di un edificio abbandonato in città perché unisce anche direttamente tante questioni che non riguardano solamente il salario il salario diretto ma anche il salario indiretto e tutta la fascia dei servizi in un territorio che chiaramente a seconda delle situazioni può avere varie varie possibilità e vari bisogni e l'altra cosa che poi mi sembrava molto stimolante rispetto diciamo al dibattito che che stiamo portando avanti e poi sull'idea anche di un immaginario da ricostruire e questo mi faceva sorridere giustamente il racconto che faceva Patrizia anche di come nelle file alle ASL per i vaccini nei centri vaccinali e quasi ci si stupisce se qualcosa nel pubblico funzioni diciamo mio Dio riesco a fare avere un vaccino ad avere dieci minuti di attesa e poterlo fare effettivamente è così cioè io su questo è una riflessione che che sembrerà banale ma secondo me è importante farsela perché purtroppo spesso eh la verità è che tutto quello che veniva considerato come un diritto come rappresentazione della dell'essere cittadini di aver guadagnato qualcosa di doverla difendere perché riguarda l'organizzazione collettiva dei diritti di tutte e tutti è qualcosa che si è perso cioè l'idea che il pubblico eh sia effettivamente l'elemento da difendere da riconquistare ehm per quella che è la percezione che io vivo quotidianamente con le persone comuni non esiste più esiste fortunatamente per alcuni aspetti per resiste sulla scuola sulla sanità già non resiste più sono tantissime le persone che ti dicono ma guarda che io vado al privato tanto in due giorni la visita me la fanno al pubblico devo aspettare tre mesi il medico al massimo mi fa l'intramenia ed è molto difficile diciamo riprendere un un discorso su questo piano qua invece questo credo sia fondamentale ed è fondamentale farlo ricominciando ad attaccare cioè ricominciando a svelare come chiaramente tutti facciamo ma è su questo piano che poi spesso la rappresentanza nei fatti dell'uso quando a parole eh si ci si erge a difensori dei diritti a difensori eh di garanzie e tutele per tutte e tutti e poi nei fatti quello che si riscontra è che è quella difesa non c'è stata e che anche oggi quando si parla di recovery andiamo andiamo a vedere diciamo chiaramente quando uscirà la bossa ma non si non si va di certo verso un cambio di paradigma lo diceva anche benissimo Eleonora non siamo di fronte a un cambio di paradigma rispetto alle politiche liberiste siamo sicuramente di fronte a un momento storico in cui non saranno non sarà diretti non saranno direttamente politiche di austerità quelle che avremo ma sicuramente siamo di fronte a un momento di grande difficoltà e di crisi economica in cui si cercherà di salvare il grande capitale di riprendere un meccanismo di accumulazione magari con una pennellata di verde come eh ormai diciamo eh è chiaro che si andrà su questa strada qui ma non verso un cambio di paradigma verso l'idea che invece la la ripartenza o si fa tutti insieme e quindi garantendo diritti e tutele per tutti o si fa aumentando i salari perché in questo paese non esiste siamo l'ultimo paese per mobilità sociale in Europa siamo l'ultimo paese per il livello di salari in Europa quindi o si riparte da questo oppure è chiaro che ci state prendendo in giro per essere diciamo educata che siamo giustamente in diretta ehm su questo diciamo io eh aprirei anche il dibattito perché credo che il tema sia proprio eh su questi due fronti qua cioè noi agiamo su un piano di ricomposizione e nei luoghi in cui ognuno può fare questo lavoro qui e ma abbiamo assolutamente bisogno di individuare quei temi quelle proposte che possono che confliggano con forza verso il nostro nemico e quel nemico va indicato chiaramente non si può essere su questo eh in alcun modo diciamo morbidi né né refrattare a uno scontro vero perché mai come adesso forse in questo senso anche più di prima la crisi la mia generazione ma vi dirò la generazione di di ragazze appunto che oggi vanno alle medie che oggi vanno al liceo sono generazioni che sono nate con la parola crisi che non hanno proprio vissuto la speranza di possibilità di mobilità sociale queste generazioni forse più eh di di quelle precedenti hanno un compito non solo hanno il peso di quello che ovviamente è stato distrutto prima ma hanno anche eh la missione storica e mai come ora la vedo proprio storica eh per il passaggio che stiamo vivendo di riprendere in mano il loro destino e di ribaltare completamente le cose in questo senso anche su questo tema in questo paese ovviamente non è anche problematica spesso la partecipazione giovanile se pensiamo all'età media di di chi ci governa e di chi assume ruoli di responsabilità e e su questo invece sono convinta che avremo delle belle speranze da qui a breve mi taccio ma unicamente perché penso che su questo piano si possa costruire magari un discorso e un dibattito continuato grazie grazie chiara eh Paola adesso tocca a te ma io sono molto d'accordo con Patrizia quando parlava di istituzioni che un tempo erano più permeabili e che adesso sono diventati dei veri e propri palazzi inavvicinabili quasi inavvicinabili a me per tanto tempo è capitato di passarci davanti a quei palazzi stando a Roma e di sentirli proprio come ostili e Paola l'ho conosciuta come una crepa di quel palazzo perché durante una manifestazione contro i decreti Salvini contro il primo decreto Salvini lei invece di stare dentro al palazzo stava fuori con noi a protestare contro quella orribile piaga che che sono stati decreti peraltro tutt'altro che che rimossi ci conoscemmo lì e poi poco tempo dopo ci mettiamo a parlare di come di un'altra cosa cioè di come poteva essere immaginata una città diversa un abitare diverso l'idea di ehm rigenerazione delle città e di come questa non poteva convivere col col sistema di produzione capitalista penso ad averne imparato qualche cosa però vorrei che se da questo che anche la sua professione poi tra l'altro è anche la sua professione sì sì anche la mia professione anche se mo la mia professione non capisco più esattamente dove quali siano un po come Patrizia all'inizio ha detto io ho scritto proprio questa parola la frattura qui ho scritto tante parole di quelle sono state dette ma la parola con cui volevo iniziare è proprio questa la frattura perché quella che vivo in prima persona con alcune compagne devo dire ecco mi sono ritrovata in questa ultima fase circondata da donne e questo è molto consolatorio da molti punti di vista però c'è una frattura con come dicevi tu esattamente tra quel posto quel palazzo e il resto e questo lo sentiamo proprio sulla nostra pelle sul corpo no come diceva Patrizia il corpo noi donne abbiamo una percezione molto chiara del corpo e subiamo anche il peso di quello che ci succede sul corpo perché ci ritroviamo cioè in pratica in questa legislatura soprattutto io mi sono ritrovata con poche altre persone ad essere a sentirsi sempre l'irregolare ribelle autonoma e io che sono un'assemblearista io sono per mettere insieme per tenere unito e quindi io vivo con molto disagio questa invece che questa forza che poi interviene regolarmente a destabilizzare l'ordine delle cose non nasce da un fatto caratteriale chiaramente ma da un'esperienza che si è venuta a stratificare che non mi permette più di non vedere cioè sarà l'età non lo so ma mi è impossibile vedere con occhi vendati quello che sta accadendo quello che sta accadendo è di una gravità unica noi chiaramente non stavamo bene prima ma adesso abbiamo proprio una ristrutturazione del capitalismo quello che ho cercato di dire quelle righe che ho dato come contributo a left e che c'è proprio un'appropriazione in debita noi con questa pandemia abbiamo vissuto una crisi profonda e come tutti noi sappiamo da una crisi può avvenire una rinascita mi è piaciuto molto il riferimento che ha fatto Patrizia Alkinzugi le ferite che arricchiscono noi avremmo potuto e forse ci siamo illusi un certo momento che da questa crisi che rendeva il re nudo l'evidenza no plateare di come il questo modello di sviluppo non solo capitalista appunto ma anche maschilista patriarcale colonialista fosse ci avesse portato a questo esatto punto no e da qui non si poteva che prendere un'altra strada no rimettere insieme i cocci ricostruire quello che che siamo ma con appunto l'evidenza di tutte le fratture per essere un'altra cosa e invece ci siamo accorti molto presto che questo non sarebbe stato perché chiaramente le forze più potenti che rappresentano invece quel modello hanno fatto proprio un colpo di stato non che quello che ci fosse prima fosse appunto il modello ideale l'hai detto stesso tu no passavamo da un governo con con la lega poi siamo passati a un conte due io stesso a conte ho detto certo il conte uno e il conte due mi sono dovuta prendere una pillolina per avere per la percezione che fosse un governo diverso no perché non ce lo possiamo dimenticare conte con i manifesti abbiamo chiuso i porti e poi conte che che invece sostiene il cambio dei decreti salvini almeno per la parte dell'immigrazione perché come giustamente detto tu per la parte della sicurezza che poi è repressione di tutte le manifestazioni di tutte le vertenze che adesso ci sono su tutto il territorio nazionale no è gravissimo ma comunque c'era uno stato di cose che aveva una malleabilità ecco io la percepivo così qualcosa che non aveva una forma certa ma che poteva anche essere in qualche modo indirizzato non dico nella giusta direzione ma sicuramente a frenare qualche qualche danno ed è stata fatta assolutamente una restaurazione e tra l'altro impossessandosi delle parole no come quella dell'ecologismo e poi anche delle pari opportunità perché è stato detto molto bene noi non possiamo fare la rivoluzione femminile femminista transfemminile o transfemminista con l'aritmetica cioè a me non importa niente chi sia il capogruppo del pd ma non me ne frega niente se chiaramente è una donna che si deve travestire del modello cioè si deve investire del modello maschile io quando parlo di femminile chiaramente come penso tutti quanti noi non parlo solo delle donne ma parlo di quella parte che appartiene a tutti quanti noi che ci dà la possibilità di vedere la relazione non solo la relazione interpersonale ma la relazione che c'è tra le cose la relazione che c'è tra le cose strutturale e olistica ed è l'unico modo che possiamo affrontare sia la giustizia sociale che la giustizia ecologica perché altrimenti si perde il nesso quello che abbiamo vissuto con Virginia Lamura che si è in commissione con me in maniera molto devastante no è stato l'approccio che invece si è voluto dare anche a questa questo recovery plan eludendo i piani perché vogliono eludere i piani dal piano urbanistico al piano per gli impianti fotovoltaici agli impianti per le trivellazioni vogliono eludere i piani perché chiaramente un piano mette in relazione tutte le cose e quindi mettendo in relazione deve necessariamente come dire in un bilanciamento dei costi e dei benefici salvaguardare delle parti no perché noi chiaramente noi come esseri umani siamo sicuramente estremamente impattanti per per il pianeta e quindi questo nostro impatto deve essere relazionato col resto e quindi capire come una scelta di una produzione o di un di un di un impianto vada a ricadere su tutti gli altri ma il piano limita e quindi il piano non lo si vuole creare e quelle che potrebbero cambiare questo approccio sono a mio parere le donne o almeno il femminile che in ognuno di noi quando tu mi riporti alla questione della città che è la mia battaglia quella di tutti i giorni perché io ho cominciato con il disegno di legge sul consumo del suolo adesso sto lavorando con grandissima difficoltà di nuovo perché la lega è tornata all'assalto e con la rigenerazione urbana io provo a resistere cioè in una situazione proprio di resistenza fisica all'attacco di chi questa città come ritorno all'urbanistica collettiva non la vuole cedere cioè noi sappiamo che la città è insomma il luogo di tutti il luogo degli incontri ha ceduto il passo con gli accordi di programma e con la privatizzazione di tutti gli spazi a una pianificazione in mano ai privati l'unica soluzione che possiamo mettere in campo è quella di ritrovare invece i luoghi della collettività quelli che io quando penso a una città come dire sociale della socialità immagino la toscana di qualche decennio fa no quando avevamo le case del popolo immagino l'opg immagino i luoghi dove la gente possa avere appunto incontri e invece dall'altra parte mi viene la controproposta della densificazione dell'occupare tutti gli spazi residui del continuare in ogni modo la cementificazione e quindi quelle che erano cioè i luoghi anche come come la scuola no che è stata così chiaramente riportata nel discorso da Eleonora la scuola che che ci ha formato tutti e che il luogo dove la relazione tra le persone cresce che è stata massacrata è la parte più inquietante del discorso di Draghi perché Draghi quando ha parlato di scuola non ha mai detto la parola pubblica e quando ha parlato di scuola ha parlato di domanda di offerta ha detto che bisogna investire negli istituti tecnici perché c'è una grande domanda di diplomati tecnici quindi la visione di una appunto di un rapporto della scuola solo come luogo che forma e sforna soggetti atti alla produzione noi in questa pandemia in questo anno e due mesi non abbiamo mai visto mettere al centro veramente i ragazzi quelli che i ragazzi hanno subito da questa pandemia si è parlato delle delle dei banchi con le rotelle si è parlato di aprirle di chiuderle della DAD che potrebbe essere vista come uno strumento aggiuntivo ma non potrà mai essere un elemento sostitutivo e e non si non ci si rende conto perché la frattura è profondissima che in molte case la DAD non arriva per niente e che in molti quartieri non c'è neanche la connessione e che comunque gli spazi negli abitazioni come abbiamo visto anche con l'aumento delle violenze domestiche con i femminicidi addirittura è un luogo anche non sempre estremamente accogliente che non non ci dispone sempre non possiamo partire insomma nei ragionamenti da quello che il nostro vissuto individuale e del fatto che noi nel lockdown siamo stati eh in una situazione di raccoglimento e di piacevole condivisione noi ci dobbiamo rendere conto che in molti quartieri per esempio di Napoli sicuramente i ragazzi che non sono andati a scuola non hanno fatto neanche un giorno di DAD perché non avevano uno strumento non avevano la linea non avevano un luogo dove mettersi a fare questa cosa e semmai avevano un genitore che che li incitava a a darsi da fare e ad attivarsi per produrre qualcosa e basta con questo computer semmai ce l'avevano e vai a lavorare quindi io sono molto molto preoccupata perché la frattura è grave pesante e ci tiene cioè quel palazzo come dicevi tu Stefano è un luogo dove non si percepisce più il eh il resto cioè dove ci si ehm ci si perde in discussioni che non hanno ehm più rapporto con il reale e c'è un arrembaggio a quei duecentodieci miliardi che poi torneranno come debito perché Draghi l'ha detto bene non è questo il momento in cui noi dobbiamo pensare al debito ma non ha detto che il debito verrà cancellato il debito tornerà e a breve e quando tornerà sarà durissima perché probabilmente l'arrembaggio no si parla anche del ponte sullo stretto eh di di fare investimenti in direzioni assolutamente sbagliate quando quando tornerà sarà devastante ma purtroppo come come ho anche detto e scusatemi poi chiudo eh io temo che non è che non si abbia la capacità di vedere dove l'errore ma semplicemente c'è un forte disinteresse a tutto questo e ci si sta organizzando per una società per pochi cioè non ha importanza il cambiamento climatico non ha importanza quante terre eh saranno sommerse e quanta gente non avrà più la possibilità di essere sfamata o avere accesso all'acqua perché ci sarà sempre qualcuno che potrà gestire queste cose e la faccenda dei vaccini è fondamentale perché il rifiuto di eh togliere questi eh i trips che pure sono negli accordi no cioè è già previsto nell'accordo eh la possibilità eh di essere elastici eh su questo eppure non lo si vuole fare per in un estremo egoismo anche autolesionista anche autodistruttivo perché chiaramente non potremmo tirare su muri per tenere via il virus che verrà poi dai paesi che sono fuori dal dall'Europa ma eppure ci si ostina a difendere il la proprietà al di là di qualunque altra cosa va bene ho finito Simona io ti chiederei la parola beh le cose che sono state dette sono molto belle io non le voglio sonteggiare perché sarebbe rinchiudere in una gabbia e avete volato tantissimo quando altissimo quando io dicevo all'inizio intelligenza nuova no poteva sembrare a stare tratta invece una dopo l'altra avete dimostrato non solo visione spessore passione in quella dimensione che diceva appunto Paola cioè appunto io parlavo di femminile che è dentro ciascuno di può essere dentro ciascun essere umano no perché poi è ovvio cioè non è che uno nasce donna c'è anche la toucher purtroppo no che tutt'altro non avevano ecco non come dire è proprio la teorica di quello che noi contestiamo appunto che non esista la società e quindi di un neoliberismo feroce che pensa solo al profitto e non alla dimensione umana e dall'altra parte mi viene da pensare intanto che mi piace mettere a disposizione left lo sapete già ma insomma vorrei incoraggiarvi ancora di più adesso siamo anche in diretta su left per continuare questo lavoro perché le vostre proposte sono anche proposte politiche molto concrete no dalla scuola all'ambiente la città e così via e dall'altra parte penso che come giornale come left come i media hanno una responsabilità molto grande in questo momento di fare raccontare le donne e non solo e queste battaglie appunto che mettono insieme in una piattaforma ampia raccontarle bene in modo diverso perché non ci scordiamo in che paese siamo perché comunque sia politicamente veniamo da un governo della lega con appunto del primo governo con la lega il conte uno e sappiamo ci siamo scordati forse di pillon ci siamo scordati no del del congresso della famiglia noi di left siamo stati addirittura quei relati io personalmente per un articolo anche curioso perché mi è stato contestato nella prima parte dell'articolo io citavo Paolo di Tarso e dicevo che era un gran misogeno che diceva che le donne devono star zitte in un altro passaggio citavo Aristotele e quando la polizia postale mi ha fatto vedere proprio quelle parti lì io stentavo a crederci perché leonora che insegna mi hanno detto ma lei ha qualcosa da dire ma sì leggete i libri di Eva Cantarella pubblicati a Peltrinelli non mi pare di aver detto una cosa tanto originale però questo lo racconto un aneddoto ma perché racconta molto invece del clima anche intimidatorio che stiamo avendo perché il congresso della famiglia e il provvedimento pillon che sta in un cassetto sono provvedimenti pericolosi ma ma la campagna di regressione di rispetto ai diritti delle donne in Italia lo sapete comincia da molto tempo io personalmente mi sono molto battuta contro la legge 40 2004 2005 sembrava una legge che si doveva occupare di semplicemente di un aspetto specifico dell'infertilità invece attraverso quella è passata una deriva culturale pazzesca perché appunto non solo una legge antiscientifica ma se ci ricordiamo stabiliva di fatto dell'embrione la più importante della donna e poi si imponeva la donna di farsi impiantare tre embrioni anche se malati cioè c'era anche l'elemento oltre che antiscientifico di crudeltà che ancora si rabbrividisce allora e quella legge fu fatta in un accordo tra centrosinistra cioè cattolico trasversalmente con il centrodestra e non ci scordiamo tutto questo percorso quello che sappiamo dell'attacco alla 194 gli obiettori di coscienza perché tutto questo come dicevano giustamente qualcuno di voi non accade solo in Turchia sta accadendo sta accadendo qua e e ultimamente io ho trovato particolarmente irritante in modo in cui i giornali noi di left non ce ne siamo occupati proprio ma insomma in modo in cui i giornali si hanno discusso di questo balletto delle come dire dentro il PD no? che torna letta da Parigi e avrebbe fatto il grande gesto di dire io mi assumo la questione delle donne abbiamo un problema la questione delle donne dentro il partito quando banalmente bastava che lui facesse un gesto tipo che ne do a dire la Cuppi che viene tra l'altro da un ambito antifascista e insomma no? poteva il PD dire lei la nuova segretaria e questo sarebbe stato un gesto assai più concreto che non questo balletto a cui siamo sentiti che è una lotta come sappiamo tra correnti mascherata eh attraverso e quindi io penso che dobbiamo anche decostruire questi modi di narrazione e i media hanno una responsabilità gigantesca se pensiamo solo alla tv pubblica eh o e privata ora ci è già uscito adesso questo libri del librettino che avete visto tutti voi di Michela Muggia che tra l'altro io non mi trovo neanche quasi mai d'accordo con lei però quell'episodio che le è capitato è significativo cioè uno psichiatra va in televisione e gli dice stai zitta e qui mi ricollego a Paolo di Tarso era la stessa cosa che diceva Paolo di Tarso questo per dire che insomma prendo un po' la scocciatoia ma che c'è una battaglia culturale enorme ancora da fare qua e su questo vi chiedo una mano vi chiedo di essere costanti sul left di costruire insieme le battaglie che avete proposto stasera grazie io se siete d'accordo fare fare un altro giro eh per non stancare anche chi ci ascolta che magari vuole anche andare a cena purtroppo siamo sommersi dalle eh dalle conferenze dagli incontri in diretta per cui spesso a un certo punto c'è la saturazione bisogna tenerci anche in tempi più eh più stretti ricordavo tra l'altro Simona che oggi è l'anniversario del del Family Day su cui abbiamo scritto e in maniera anche abbastanza netta tutti e tutte su left eh e lo rivendico con orgoglio querelate anche me possibilmente ma detta questa a parte la la battuta eh no però mh Simona ha tirato fuori un anzi un doppio problema a me piacerebbe che le compagne che sono intervenute eh eh evidenziassero eh una la questione del fatto che eh la politica sembra continua anzi in Europa lo diceva in maniera perfetta Eleonora soprattutto prima a non prevedere eh quello che sono riusciti per esempio a fare le le compagne e i compagni derogiava eh nonostante una condizione di eh di durezza del conflitto micidiale si prevede al massimo appunto la quota la partecipazione o il il giochetto di correnti in cui si utilizzano le 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 voci femminili per dar potenza maggior potenza al ruolo maschile e il secondo elemento è il ruolo che eh su questo Simona sa perfettamente che siamo terribilmente in linea che continua a giocare alla religione da questo punto di vista che e non soltanto la religione cattolica eh penso a chi ha a che fare con tanti contesti eh anche di di altre di persone provenienti da altri paesi in cui il dominio eh viene imposto eh viene imposto anche attraverso l'utilizzo della religione lo spazio di libertà di cui parlava Patrizia è uno spazio di libertà anche dai mariti diciamocelo come cosa allora eh faccio una domanda che eh meriterebbe di per sé un'altra un altro paio d'ore di ma è possibile partendo da quello che si fa eh eh spostare un po' veramente l'asse della dell'azione politica eh in maniera eh in maniera meno eh meno la Paolo di Tarso tanto per eh per citare io comincerei proprio da Patrizia rispettando lo stesso giro che abbiamo fatto prima guarda pochissimi minuti ma siccome mi sono ritrovata in tantissime cose dette anche da le ultime io voglio continuare a ad essere un'eccentrica penso essere necessaria questa radicalità radicalità e abbiamo detto irregolarità e quindi la decostruzione dell'esistente quando faccio formazione sono anche una formatrice del servizio civile comincio con la lettura di questo libretto un pezzettino me ne leggo il primo capitolo e di Bernard Friot non so se riuscite a vederlo il mio mondo a testa in giù perché secondo me bisogna Stefano anche per rispondere alle cose che tu ci poni cambiare postura cambiare disposizione decostruire sentite quanto è carino anche per alleggerire tema ogni lunedì è la stessa cosa c'è il tema raccontate la vostra domenica è uno strazio perché a casa mia la domenica non succede mai niente andiamo dai nonni non facciamo niente mangiamo non facciamo niente un'altra volta e rimangiamo ed è finita quando l'ho raccontato la prima volta la messa mi ha dato insufficiente la seconda volta addirittura preso zero fortunatamente una domenica mia madre si è tagliata il dito affettando l'arrosto di agnello c'era un sacco di sangue sulla tovaglia ed era disgustoso l'indomani ho raccontato tutto nel mio tema e ho preso molto bene avevo capito bisognava bisognava che la domenica succedesse qualcosa allora la volta successiva ho spinto mia sorella giù dalle scale e abbiamo dovuto portarla all'ospedale e ho preso bravissimo nel tema dopo ho messo un po' di detersivo nella scatola del latte in polvere ed ha funzionato benissimo mio padre ha rischiato di morire avvelenato e io ho preso bravissimo più più mentre ho preso solo buono il giorno in cui ho rotto la lavatrice e inondato l'appartamento dei vicini di sotto domenica scossa però ho avuto una buona idea per il mio tema ho messo un vasso di fiori in equilibrio sul davanzale della finestra e mi sono detto con un po' di fortuna cadrà sulla testa di un passante e avrò qualcosa da raccontare ed è quello che è successo il vaso è caduto ho sentito un urlo ma dato che era andato in bagno non sono riuscito ad arrivare in tempo ho visto solo che la vittima veniva trasportata dal portinaio dopo è arrivata l'ambulanza in ogni caso non è servita niente non abbiamo fatto il tema l'indomani a scuola c'era la supplente la vostra maestra è all'ospedale ci ha annunciato frattura del cranio per me fa lo stesso abbiamo fatto la verifica sui verbi e la verifica sui verbi è più facile del tema non c'è bisogno di inventare ecco non voglio prendere parola ancora perché volevo lasciare questo panel così confortevole di sintonia che abbiamo ritrovato per dirvi cambiamo postazione postura cambiamo proprio modo di vedere le cose e aiutiamoci l'un l'altro per ricostruire quell'unità che non che ci è stata tolta e che dobbiamo rimettere in sesto grazie Eleonora vai metto in calendario da verifica sui verbi perché mi sembra diciamo molto sicuro a parte le battute credo che diciamo anche lo stimolo di Patrizia a cambiare postura sia fondamentale e quindi io dirò quattro cose molto velocemente un po' anche come diceva Benedetto Croce come contributo alla critica di me stessa ci provo e la prima questione le irregolari un romanzo bellissimo di Carlotto parla di Argentina come tutti sappiamo come tutti e tutte sappiamo e ci aiuta a parlare anche dal mio punto di vista di religione perché perché non ci dimentichiamo quanto la questione vaticana sia una questione presente nelle scuole quanto sia trascurata ad esempio la materia alternativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole che molto spesso è un'ora di buco e io ho scoperto da tramite le mie amiche che hanno bimbe piccole che addirittura si insegna religione nella scuola 06 cioè nella scuola d'infanzia e credo che questo sia un problema sia un problema anche non trovare parole laiche per parlare senza trasformare il pensiero dell'alternativa in un florilegio di licitazioni del Papa argentino questa è una cosa su cui io sono radicalissima perché perché siccome ho avuto la fortuna nel mio nomadismo parlamentare di conoscere le compagnie argentine quando erano nel pieno della lotta per la legalizzazione dell'aborto e so che il ruolo non positivo certamente ha svolto il ruolo del Papa argentino contro quella mobilitazione penso o pensiamo alle parole dette sulla Polonia penso che su questo dobbiamo intenderci cioè o questa è una questione nodale l'autodeterminazione delle donne e quindi chi sta dall'altra parte non è un mio alleato oppure se diventa una variabile dipendente allora forse stiamo parlando diciamo di questioni diverse quindi questa è la prima questione su cui secondo me diciamo le donne devono rifondare un pensiero politico dell'alternativa perché altrimenti si potrà scambiare il Papa argentino per l'alleato di turno per me il Papa argentino non è un alleato ok anche se dice tante volte cose che sono ovviamente condivisibili prima questione seconda questione citato croce perché oggi c'è qualcosa che non ho condiviso l'idea che Draghi sia una parentesi per me Draghi non è una parentesi la parentesi era il giudizio che croce dava del fascismo Draghi non è una parentesi e qui però vengo anche al contributo alla critica di me stesso Draghi non è una parentesi perché? perché Draghi lo sappiamo è un emissario delle classi dominanti europee per gestire il recovery fund in termini funzionali alla ristrutturazione del capitale transizione ecologica e transizione digitale devono essere funzionali alla ristrutturazione del capitale le perdite non devono essere sul terreno del capitale le perdite devono essere su un altro piano noi invece ci battiamo su un altro fronte eh l'utilizzo di quelle risorse e di questa svolta epocale per rimettere al centro una società giusta equa per tutti e per tutte ed è per questo che noi stiamo con il brevetto pubblico cioè con il vaccino pubblico di Cuba e non con chi al VTO vota per mantenere i brevetti anche durante una pandemia ed è per questo che noi siamo con la famiglia di Giulio Reggeni e non con chi vende armi alla all'Egitto e non con chi vende armi alla Turchia ed è per questo che noi abbiamo criticato il MES e non abbiamo mai detto come invece hanno fatto non solo Renzi che oggi diventa diciamo il capro espiatorio lungi da me nemico di classe ma non è stato solo Renzi a porre la questione del MES è stato l'allora ministro delle economie e finanze Gualtieri eh io ho avuto un dibattito con una compagna eh attualmente presidente delle donne DEM che diceva a casa internazionale delle donne mi vergogno di stare in un paese in cui ancora si discute del MES allora la sollecitazione che io pongo la pongo davvero volendo scomporre no ciò che eh diciamo tutti i muri che sono eretti fra di noi eh se noi vogliamo dare forza e corpo all'alternativa l'interlocuzione la cerchiamo con chi dice eh appunto no alla buona scuola no allo smontaggio dell'articolo diciotto no alla vendita di armi no ai decreti minniti che hanno preceduto eh quelli di eh di Salvini eh no all'Europa dei patti di stabilità o la vogliamo costruire con chi invece tutte queste cose le ha fatte perché questo è un punto secondo me fondamentale seconda cosa contributo alla critica di me stessa eh e lo dico qui a Chiara a Patrizia eh io ho sempre sostenuto che fosse centrale eh l'idea di una rivoluzione molecolare mh della costruzione col conflitto e col mutualismo di contropoteri di un cambiamento appunto di quello che Patrizia ha chiamato rigenerazione sociale penso che oggi però la questione del tornante storico interroghi anche noi perché la ristrutturazione del capitale sta avvenendo con una velocità e una verticalizzazione che non possiamo sottovalutare la questione del tempo è una questione centrale anche per noi eh proprio perché sappiamo che tutto questo avviene con quel cambiamento che Patrizia ben descriveva cioè di istituzioni totalmente impermeabili al conflitto sociale l'abbiamo visto Mattarella Draghi è venuto tutto in pochissime ore quella maggioranza assolutamente strabordante e quindi una ristrutturazione che si gioca ora con l'esclusione della società della politica allora io mi chiedo questo processo molecolare ha bisogno oggi di un eh come dire aggregatore di un acceleratore perché forse noi rischiamo di procedere una velocità troppo lenta rispetto a quelli che oggi sono i processi di trasformazione contributo alla critica di me stessa beh se il femminismo deve essere fondativo e io penso che debba essere la forza politica fondativa e rifondativa penso anche che noi dobbiamo liberarci da quella che Carla Lonzi chiamava citando e leggendo Rosa Luxemburg la strage di marxiste la strage di marxiste perché troppo volte diciamo eh l'idea della intersezionalità anche nelle organizzazioni eh marxiste e in quelle tuttora presenti è vista diciamo in termini di inclusione in quello che già c'è e che è troppo micro e che è troppo frammentato e che è troppo in competizione fra micro organizzazioni e non ha la capacità di diventare una marea femminista che travolga l'impotenza in cui noi oggi come sinistra radicale siamo imprigionati Grazie Ele eh a me sembra che Chiara che eh Eleonorata abbia passato la palla in maniera perfetta neanche Francesco Totti ci riusciva così bene Manco del Piero No no infatti perfetto e a me in realtà veniva sulla base un po' delle cose che stiamo dicendo mi veniva in mente un episodio che un po' credo ricolleghi vari temi che stiamo affrontando uno dei tanti purtroppo episodi di femminicidio eh un anno un anno fa a Napoli fu uccisa una donna dal marito si chiamava Fortuna ed era del quartiere dove dove abito qui alla Sanità e Miracoli eh questa quella vicenda mi colpì più di tante altre perché ehm ci fu un'immediata risposta delle amiche di fortuna perché chiaramente spesso nei quartieri popolari più degli altri diciamo ci siamo comunque molto abituati alla socializzazione dei problemi a condividere le esperienze di vita a non nascondersi a non individualizzarle e quell'evento aveva fatto sì che le amiche di fortuna volessero prendere parola volessero uscire da una dimensione prettamente domestica e volessero uno spazio pubblico in cui denunciare urlare la loro completa insoddisfazione per le loro vite per le loro condizioni di vita per la condanna a cui sono spesso sottoposte per le poche possibilità che si hanno in tanti quartieri di questa città di poter immaginare anche solo una vita diversa e la cosa che mi colpì fu che loro eh però andarono da un prete andarono alla chiesa della sanità andarono a parlare con il parroco della zona e si organizzarono con il parroco per avere eh uno spazio di discussione e e quindi fu diciamo quel percorso fu abbastanza introiettato da da questa dinamica qui e tutto quello che di di vera conflittualità poi c'era anche il percorso perché parliamo di trenta quaranta eh donne ragazze più o meno giovani che invece avevano aveva esprimevano quando le ascoltavi una grande volontà di di confliggere con dei diritti mancati tutto questo è stato nei fatti eh sgonfiato eh in questo processo qui perché poi cosa si è fatto? e torno magari a un tema che era stato citato eh alle prime battute se è costituita un'associazione eh se sono fatti gli eventi soliti si è pittata di rosso una panchina se andate a fare l'evento commemorativo cose importanti per carità non è che voglio sminuirle ma sono anche mi hanno fatto molto riflettere su quello che evidentemente in questo quartiere ancora manca cioè lo spazio che si è preso come riferimento il luogo che si è preso come riferimento per organizzarsi e per denunciare non è quello che io speravo potesse eh ovviamente essere cioè uno spazio che potesse invece dare dare voce a una volontà di di lotta di conflitto magari per chiedere al comune di aprire uno sportello antiviolenza in questo quartiere magari per chiedere di avere possibilità di emanciparsi da un marito violento anche solamente potendo trovare un'altra casa un altro lavoro delle possibilità di emancipazione reali tutto questo non c'è stato che è semplicemente non perché le 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 stesse persone non lo volessero sono sicura che invece se avessero incontrato un altro per un altro tipo di eh di spazio di luogo questo era effettivamente nelle loro corde ma questo non c'è stato e quindi torno un po' al discorso di prima cioè quello cioè quello che manca quello che manca è questo piano di di radicamento che non è semplicemente un radicamento organizzativo è anche poter ritrovare una comunità in cui in cui poter parlare in cui potersi sentire accettate e quindi in cui tutti questi temi possano sentirsi accettati senza fare classifiche di nessun genere perché si può si deve assolutamente dare priorità a tutti questi temi e allo stesso tempo serve vedere poi un esempio di discorso e di anche di di entusiasmo di di l'idea di poterle ottenere determinate conquiste che è qualcosa che abbiamo perso quindi c'è qualcosa che va incontrato immediatamente dove stai nel territorio in cui vivi e che oggi spesso manca perché chiaramente non è che eh siamo già sufficienti su questo piano altrimenti le amiche di fortuna sarebbero venute da noi e non sono venute da noi e e c'è un piano anche di di immagine di esempi che anche manca perché quando si accende la televisione perché purtroppo è ancora quello uno degli strumenti principali in cui si costruisce eh una base culturale comune un immaginario comune non si vedono donne che propongono questo nei fatti eh mancano quindi conquistare quegli spazi su un piano eh ovviamente giornalistico piuttosto che sul piano televisivo su un piano di quello che è la narrazione mainstream eh non è è fondamentale è fondamentale costruirli dal basso perché le prossime perché purtroppo sappiamo che questo è il paese in cui viviamo un paese dove questa situazione è una situazione allarmante anche se non è purtroppo allarmante per chi ci governa è una situazione che che possa creare queste due diramazioni una diramazione di pretenza sul territorio per costruire e organizzare è una è una pretenza invece eh effettivamente sul piano culturale che possa rovesciare completamente l'ordine del discorso in questo senso qui questa è secondo me l'arma che noi abbiamo per contrastare eh quel processo che le religioni tutte le religioni monoteiste hanno contro le donne contro le discriminazioni l'esempio positivo eh che invece posso fare riguarda per esempio il percorso che noi stiamo portando con sicuramente tante difficoltà ma anche con eh enormi soddisfazioni eh rispetto per esempio a al lavoro che si fa con le donne vittime di tratta e alla partecipazione eh alle assemblee con il resto dei loro compagni eh maschi migranti è molto interessante perché erano due mondi che non riuscivano a incontrarti. perché ovviamente anche eh i migranti i richiedenti asilo eh dell'Africa occidentale non è che sono propriamente dei campioni di antitettismo il più delle volte incontrano eh non non riuscivano nei fatti a fare assemblee insieme non c'era un punto di contatto perché c'era un pregiudizio che molto forte che impediva a queste donne di parlare e di essere ascoltate e di essere quindi in qualche modo completamente partecipi di quella lotta. noi abbiamo iniziato quindi un percorso che era partito separato cioè che aveva eh una che ha un'assemblea delle donne in cui ci si confronta, ci si riconosce, ti prende forza, ti costruisce comunità e allo stesso tempo chiaramente esiste l'assemblea eh del movimento migranti dove si costruiscono le battaglie politiche. poi questi mondi si incontrano e quando si incontrano in questo difficile percorso che c'è stato che è un lavoro di relazione, di ascolto, di metodo che si costruisce insieme ad oggi se si assiste a una di queste assemblee si vede come i compagni e macchietti delle eh ragazze nigeriane e boriane sono lì ad ascoltarle e spesso sono anzi le più avanzate, le più combattive quelle che hanno la forza eh la determinazione di portare avanti non solo una piazza quando si costruisce un corteo ma anche le rivendicazioni e l'organizzazione necessaria per continuare. quindi su questo eh la fatica da fare è tanta però la strada c'è eh bisogna menare le mani come si vuol dire e lavorarci perché su questo processo qui io mh penso e forse eh penso anche Leonora lo noti quando ti parla invece con le nuove generazioni io vedo un gap generazionale anche con la mia generazione rispetto a queste tematiche che mi sconvolge ogni volta che parlo con un tredicenne con un quattordicenne con un quindicenne perché sono molto più avanti anche di me di come ero io a a quell'età rispetto a eh la propria consapevolezza dell'identità di genere della della di una società che non sia discriminante non semplicemente verso le donne ma verso qualsiasi scelta di espressione della propria sessualità della propria dei propri corpi della propria vita non che poi quei problemi comunque non si vivino perché i contesti scolastici lo sappiamo sono anche molto violenti in questo senso nelle loro relazioni ma c'è un un passaggio culturale che invece è molto forte che pone questi temi veramente come prioritari come prioritari nella definizione di te e quindi anche nella nell'ascolto che hai verso l'altro nella sua sofferenza nella sua costruzione della sua identità questo secondo me promette molto bene per il futuro perché quello eh i quindicenni i tredicenni i minorenni di oggi che chiaramente non hanno ancora voce in capitolo su tante su tante questioni saranno invece però quelli che non solo già da oggi pongono tante domande e costruiscono tante riflessioni eh sicuramente all'avanguardia ma domani saranno quelli che già saranno eh pronti e con tanti strumenti per affrontare e costruire politiche radicalmente diverse da quelle che abbiamo visto in questi anni grazie Chiara Paola Sì allora diamo il voto ai tredicenni cioè voglio dire mi viene da dire immediatamente perché Chiara ci ha dato cioè io io stasera devo dire sono reduce è una settimana molto dura eh porto il personale perché effettivamente mi sono sentita in una situazione molto accogliente e quindi non riesco a non farlo no eh mi sono sentita a testa in giù in una situazione di isolamento ho ripetuto per la seconda volta le parole che ha usato Patrizia perché è stata proprio la sensazione di che ho provato questa settimana più che il solito ma la questione è proprio questa cioè ci hanno messi in una bolla dove non c'è più distinzione di nessuno no tra destra e sinistra e ci hanno voluto far credere che questo e sia il solo modello possibile questo appunto accendendo la la tv ma anche vivendo il Parlamento credetemi essere in Parlamento da sola o insieme a un'altra sola persona e parlare a tutte quelle altre persone che sono tutte indirizzate con un'unica prospettiva è veramente destabilizzante devi per forza decostruire cioè non puoi fare altrimenti perché e devi avere anche una forza che non ritenevo di avere e che mi sono dovuta necessariamente ritrovare ho dovuto ritrovare me vi dico la verità cioè è una confessione sul privato però è importante cioè il fatto che non vogliano ammettere più che questa sia una questione dalla transizione ecologica anche alla diciamo alla risoluzione dei problemi della crisi socio economica e sanitaria non la vogliono riportare sulla necessaria discussione di una lotta di classe e che questo non esca da nessuna parte chiaramente nei luoghi che frequento io no però sono i luoghi che poi dove vengono prese le decisioni perché io vorrei stare effettivamente con Chiara che ha una visione chiaramente una percezione diversa e anche più soddisfacente delle cose ma essere in quei luoghi dove c'è questo monoblocco di pensiero è veramente destabilizzante ma allora come si può uscire da questo cioè come si fa a rompere questo tetto no non solo più il tetto per le donne ma il tetto di tutti quanti noi dove è stata spinta la sinistra e non voglio dire sinistra radicale perché non c'è un'altra sinistra esiste solo una sinistra ed sarebbe il mio sogno che esiste una sola sinistra ma è in un angolo e non ha voce non si sente da nessuna parte non esce Chiara parlava giustamente della televisione accendi la televisione tranne qualche giornale ma apri i giornali e tutti hanno la stessa narrativa e perché perché quello che è stato poi alla fine più funzionale di tutti è stato proprio questo cooptare come raccontava Chiara cooptare proprio e incanalare questa opposizione e renderla funzionale all'idea che si vuole portare avanti Allora diventano tutti ecologisti tutti socialisti però liberali tutti cioè tutti buoni sono tutti buoni vanno tutti nella direzione di voler sanare questa società che vogliono ridurre il divario economico e quindi non c'è cioè tu non vedi più la differenza dagli uni e gli altri però la percepisci la sai la conosci bene ma non riesci più a narrarla Allora quando viene a mancare questa possibilità di narrare questo conflitto perché il conflitto c'è e ci deve essere perché giustamente io so da che parte sto e so che gli altri stanno da un'altra parte però questo conflitto non esce più allora mentre ero così disperata a farmi questa domanda Chiara mi dice una cosa importante mi dice che tra le giovani generazioni c'è invece già un cambiamento è già in atto e allora c'è la speranza c'è la speranza che si riesca a rompere questo tetto a rompere questo tetto di cristallo questa cosa che ci schiaccia tutti in una unica condizione e quindi tramite questi giovani che poi anche con i giovani del Friday abbiamo visto c'è una potenza e anche una radicalità torna questa cosa di dire e continuare a dire non è abbastanza non va bene non è che perché ci state a sentire ci nominate ci invitate ci fate andare nelle grandi sale delle decisori a noi sedicenni poi la cosa è fatta fortunatamente questi non si fanno inibire da nessuno e continuano a dire le cose che devono dire che per la nostra generazione parlo con te Stefano perché le altre sono più giovani con Patrizia casomai per la nostra generazione invece siamo rimasti in pochi e siamo veramente isolati ci tolgono la parola quando dobbiamo parlare cioè voglio dire guarda è di un'alienazione incredibile io la voglio condividere con voi perché siete amici io vi voglio bene quindi mi permetto di essere molto sul personale su questo e perché poi quando incontro persone come voi chiaramente le mie ferite si sanano un po' però mi confesso anche che non mi do l'ora uscire a quei palazzi cioè di andare in altri luoghi dove trovare persone più simili a me allora grazie Paola Simona Maggiorelli purtroppo ci ha dovuto abbandonare perché una volta tanto per fortuna l'EFT verrà anzi ogni tanto capita andrà in tv il prossimo numero per rappresentare alle 23.15 a Rangers 24 prendete anche il prossimo numero che è bello quanto quello che avete già in mano piccolo spot pubblicitario solo due cose la prima un grazie enorme a Giancarlo Scotoni che si è fatto ha fatto il lavoro dietro le quinte grazie per Transform e che ha reso possibile questa questa diretta la seconda è un grazie non formale ma sostanziale a voi e lo dico in questo caso non da giornalista di LEFT o da collaboratore di Transform ma da dirigente come Leonora di Rifondazione Comunista lo dico in positivo perché quando ascolti sei in un dibattito in cui le persone che si incontrano parlano fra loro e impongono il fatto che si parla insieme non si ragiona in segmenti separati ma si dialoga si viene contaminati da quello che dice l'altro l'altra in questo caso beh si fa un salto in avanti secondo me e lo dico da in questo caso ripeto lo dico da dirigente di Rifondazione se imparassimo ma in tutta la sinistra in tutte le sinistre che dovrebbero diventare una bella sinistra forte a utilizzare questo codice relazionale per cui io ascolto e imparo io mi metto in discussione nel momento in cui sento una persona che utilizza una frase divergente mi costringe e dice bene Patrizia ad assumere una postura che è diversa mi costringe mi provoca per mettermi in una postura che è divergente beh ne guadagno in salute ma in salute fisica in salute mentale ne guadagniamo secondo me collettivamente in salute mentale secondo me questa è stata una gran bella serata quindi veramente di alto livello e di alta qualità di alta qualità ma non non avevo dubbi partivo positivamente prevenuto bene ringrazio spero che con left con transform o con qualsiasi altra voglia altra voglia strumento potremo avremo aver modo di realizzarne altri incontri di questo tipo left come ha già detto simona è più che a disposizione per continuare questo che è un uno dei suoi tratti salienti una delle sue caratteristiche positive quando si può utilizzare il termine identità io vi auguro una gran bella serata bella come quella che avete fatto passare voi a me almeno grazie grazie stefano grazie compagnie un bacio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie di cuore a presto ciao ciao ciao